ragazzi rieccomi qua con voi ancora buona giornata da corrido renato e mickey crow che oggi vi fa vedere anche gli eventi di fornite quindi innanzitutto guardate il video dello show di forne che ho appena pubblicato e adesso vi faccio vedere gli eventi fra tre ore c'è il coppa tuono ragazzi coppa tuono ecco qua torneo a coppie eccolo qua il 26 di gennaio quindi oggi dalle 18 alle 20 e poi dalle 21 alle 23 vedete questo evento utilizza di regolamenti diversi per ciascuna competizione l'obbio 50 giocatori tutto il regolamento comunque lo leggete sul sito di epic games e quindi andate direttamente a vedere cosa prevede e cosa e cosa ovviamente avete in cambio quindi torneo coppie torneo coppie tuono playstation e poi dopo il torneo tuono playstation ovviamente fra un giorno ci sono ecco qua coppie sfidanti sempre torneo coppie quindi il 27 dalle 19 alle 22 ovviamente per scegliere bisogna qualificarsi a coppa piazzamento coppa contendenti ovviamente le migliori squadra avanzano in divisione elite potendo partecipare alle prossime coppie elite anche qua a regolamento sul sito della epic ovviamente c'è anche la coppa contendenti stesso discorso stesso discorso e poi ovviamente la coppia elite elite e infine sempre fra un giorno la coppia veloce coppie zc fa torneo coppie anche qua dalle 19 alle 21 il 27 quindi domani in formato breve i giocatori devono avere almeno 13 anni o 13 anni in su e l'MFA abilitato ovviamente un account a livello 15 in su coppa veloce anche qua regolamento sul sito dell'epic torneo coppie uno di questi sono i tornei che ci sono fra oggi e ovviamente domani non vi faccio vedere quelli di dopo domani quindi questi sono quelli di di domani e quello di oggi ora è tutto ragazzi ragazzi buona giornata buona giornata da corrido Renato Michi Croa mi raccomando partecipate numero 8 dei tornei di Fortnite e seguitemi seguitemi Michi Croa vi aspetta gg hey guys un salutone particolare a Baltocadia e al mio team di Fortnite hey